Facendo seguito a quanto annunciato in conferenza stampa da sindaco Filippo Spataro il 3 agosto scorso, è stata pubblicata la gara di appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione di una nuova scuola materna in via Bufalino a Comiso. Il progetto definitivo prevede un importo lavori per oltre 3 milioni di euro che sarà coperto per 2 milioni con i fondi ministeriali. La nuova scuola materna che sorgerà appunto in via Bufalino alle spalle dell'ospedale nei pressi di lottizzazioni di nuova realizzazione servirà ai quartieri di nuovo sviluppo dell'abitato di Comiso, come ha spiegato il vice sindaco Gaglio. Si tratta di un istituto dimensionato su cinque sezioni, ognuna delle quali servita da servizi igienici, che si sviluppa attorno a un salone centrale per le attività collettive. La scuola, che potrà ospitare fino a 150 bambini, è stata progettata con la massima attenzione, sia agli standard richiesti dalla legislazione nazionale, che alle caratteristiche peculiari per l'inserimento ambientale di un contesto urbano, in cui esso viene a trovarsi, passando per la massima sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, sino all'organizzazione dei locali e al comfort ambientale interno a misura di bambino. Il progetto prevede anche la sistemazione dello spazio a verde circostante e di pertinenza della scuola, sul quale non a caso si affaceranno tutti gli ambienti per la didattica.